Ciao ragazzi, buongiorno! Volevo appunto parlarvi perché ieri Enrica mi ha scritto dicendo che comincia il caldo, un sacco di problemi, la pasta di zucchero diventa molla, si appiccica e quant'altro. E mi chiedeva appunto un parere riguardo alla nostra Extreme Mod, che è la pasta di zucchero per mani molto calde, quella con tre manine. Allora, lo dico di nuovo perché mi piace ripetermi, no? Però è giusto perché sono poi i problemi che si presentano sempre. Ogni pasta di zucchero è diversa e ogni pasta di zucchero reagisce in maniera diversa a tantissimi fattori, che possono essere la temperatura esterna, l'umidità, il calore delle vostre mani, il fatto che le vostre mani possano più o meno sudare, la vostra tecnica anche di lavorazione, se siete più veloci, se siete più lenti. La pasta di zucchero reagisce. È una... non è proprio così, ma mi piace chiamarlo un materiale vivo. Ok? Perché? Perché sarà capitato a tutti di lavorare la pasta di zucchero, fare la vostra bella decorazione, che non deve essere per forza modeling, può essere un fiore, può essere un fiocco, qualunque cosa, e ritrovarvi con la vostra decorazione perfettamente secca, dopo quattro giorni la vostra decorazione è mollissima e appiccicaticcia. Perché? Perché lo zucchero si è sì seccato, ma a contatto con l'umidità si è riammorbidito. No Juicy, la Xtreme, io per copertura non la consiglio, se non in periodi veramente caldi, come può essere agosto, 40 gradi e 95% di umidità. Una pasta che invece è fantastica, veramente fantastica da copertura, anche di torte vere, quindi non ha problemi dentro e fuori frigo, non risente particolarmente degli shock termici dentro e fuori frigo, è la Flash Mod, che io consiglio come pasta da modeling per chi ha le mani fredde, e quindi è una manina, ma è un'ottima, ottima pasta da copertura, vi lascia la pasta, vi lascia la torta quasi vellutata, è veramente molto settosa. Quindi la Flash Mod è fantastica anche da copertura. La Xtreme, ripeto, non in questa stagione da sola. Se la volete mischiare con la Flash, sì, altrimenti non la consiglio, perché tende a seccare troppo e magari il rischio è che vi vada un po' a crepare. La Flash va benissimo da copertura, sia adesso che d'estate, proprio senza il minimo problema. Però, quello che io volevo dire, indipendentemente dal fatto che voi utilizzate una pasta nostra o una qualunque altra pasta, in commercio ce ne sono tantissime, di tutti i tipi di qualità eccelse, La pasta di zucchero, buona o meno buona, è sempre zucchero. Quindi, lo zucchero, anche della miglior qualità del mondo, con il calore e con l'acqua, si scioglie. Ok? Ciao Elisabetta, ciao Annalisa! La pasta di zucchero si scioglie, sia che sia una pasta di zucchero di qualità eccelsa, sia che sia una pasta di zucchero un pochino più scadente. Questo non vuol dire che la pasta di zucchero non è buona, ok? Significa che fa caldo, fa caldo e c'è umido. Io leggo tantissimo, tantissimi post, Ah, hanno cambiato, la pasta non è buona, la pasta si scioglie. Magari in alcuni casi è anche così, Ma ragazzi, se d'inverno ci sono 10 gradi e d'estate ce ne sono 30, 35, 40, la pasta di zucchero non può essere sempre la stessa. Può esserlo, possono esserci dei casi in cui la temperatura compensa l'umidità e viceversa, Ma nella stragrande maggioranza dei casi, con il caldo, la pasta di zucchero si scioglie. O comunque tende a non asciugare bene, o comunque tende a trasudare. Ma questo non vuol dire che non sia buona, ok? È un po' come il paragone tra i coloranti all'alcol e i coloranti a base acqua. E so, sono passata all'aerografo. Non è vero che i coloranti a base acqua non siano coloranti di qualità, ok? Ci sono dei coloranti a base acqua che sono di qualità fenomenale, ma sono a base acqua. Quindi da un colorante a base acqua io non mi posso aspettare le stesse performance che posso aspettarmi da un colorante a base alcol. Perché sono due cose completamente diverse. Stesso discorso con la pasta. D'inverno o d'estate non mi posso aspettare la stessa identica performance da parte della stessa pasta di zucchero, ok? Può essere, ci può succedere, perché magari nella vostra zona siete particolarmente fortunate, ma prima di condannare la pasta che avete usato per tutto l'inverno all'arrivo del primo caldo, fermatevi un secondo e ragionate. Magari per l'estate quella non va bene, ok? Magari dovete aggiungerci un po' di CMC, magari dovete trovarne un'altra e mischiarla, ad esempio, ok? Noi ne abbiamo fatti tre tipi diversi per cercare di soddisfare al massimo le vostre esigenze, ma non ho la presunzione di pensare che le mie paste vadano bene a prescindere e per chiunque, perché sarebbe impossibile, ok? Perché allora a quel punto utilizzo una pasta sintetica, una pasta che non è a base di zucchero, ok? Va bene, aperto e chiuso parentesi, volevo spezzare appunto una lancia in favore del povero zucchero, che adesso con l'arrivo del caldo comincerà a essere massacrato perché si scioglie, va bene? Ragazzi, dopo questa pappardella che vi ho fatto sulla pasta di zucchero, direi che per oggi vi posso salutare. Se avete necessità, appunto, mi avevate chiesto la copertura anche di una torta, eccetera, eccetera, voi scrivetemi e io rispondo, cerco di rispondere a tutte quante. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, ci vediamo domani alle due, due un quarto, due e mezza, sempre qua su Facebook, baci baci, buona giornata, ciao! Grazie!